Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario di Catechesi sulla lettera ai Gallati, abbiamo potuto mettere a fuoco quale è, per San Paolo, il nucleo centrale della libertà. Il nucleo centrale della libertà. Il fatto che, con la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato e dalla morte. In altri termini, siamo liberi. Noi siamo liberi perché siamo stati liberati. Liberati per grazia, non per pagamento. Liberati dall'amore, che diventa la legge somma e nuova della vita cristiana. L'amore. Noi siamo liberi perché siamo stati liberati. Gratuitamente. Questo è appunto il punto chiave. Oggi vorrei sottolineare come questa novità di vita ci apra ad accogliere ogni popolo e cultura e, nello stesso tempo, apra ogni popolo e cultura a una libertà più grande. San Paolo, infatti, dice che per chi aderisce a Cristo non conta più essere giudeo o pagano. No. Conta solo la fede che si rende operosa per messo della carità. Credere che siamo stati liberati, credere in Gesù Cristo che ci ha liberati e questa fede operosa per la carità. I detrattori di Paolo, questi fondamentalisti che erano arrivati lì, lo attaccavano per questa novità, sostenendo che egli avesse presso questa posizione per opportunismo pastorale, cioè per piacere a tutti, minimizzando le esigenze ricevute della sua più stretta tradizione religiosa. Lo stesso discorso dei fondamentalisti d'oggi, no? Lo stesso discorso, la storia si ripete sempre. Come si vede, la critica nei confronti di ogni novità evangelica non è solo dei nostri giorni, ma ha una lunga storia alle spalle. Si ripete. Paolo, comunque, non rimane in silenzio. Risponde con coraggio, con parressia. È una parola greca che indica coraggio, forza. E dice, è forse il consenso delle uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Già nella prima lettera ai Tessalonicensi si era espresso in termini simili, dicendo che nella sua predicazione non aveva mai usato parole di adulazione, né avuto intenzione di cupidigia, e neppure cercato la gloria umana. Il pensiero di Paolo si mostra ancora una volta di una profondità aspirata. Accogliere la fede comporta per lui rinunciare non al cuore delle culture e delle tradizioni, ma solo a ciò che può ostacolare la novità e la purezza del Vangelo. Perché la libertà ottenutaci dalla morte e risurrezione del Signore non entra in conflitto con le culture, non entra in conflitto con le tradizioni che abbiamo ricevuto, ma anzi immette in esse, in esse culture, in esse tradizioni, in esse una libertà nuova, una novità liberante, quella del Vangelo. La liberazione ottenuta con il Battessimo, infatti, ci permette di acquisire la piena dignità dei figli di Dio, così che, mentre rimaniamo ben inestati nelle nostre radici culturali, al tempo stesso ci apriamo all'universalismo della fede che entra in ogni cultura, ne riconosce i germi di verità presenti e li sviluppa portando a pienezza il bene contenuto in esse. accettare che noi siamo stati liberati da Cristo, la Sua passione, la Sua morte, la Sua risurrezione, e accettare e portare alla pienezza anche le diverse tradizioni di ogni popolo, la vera pienezza. Nella chiamata alla libertà scopriamo il vero senso dell'inculturazione del Vangelo e qual è il vero senso di questa inculturazione? Essere capaci di annunciare la buona notizia di Cristo Salvatore rispettando ciò che di buono e di vero esiste nelle culture. Non è una cosa facile. Sono tante le tentazioni di voler imporre il proprio modello di vita come se fosse il più evoluto e il più appetibile. Quanti errori sono stati compiuti nella storia dell'evangelizzazione volendo imporre un solo modello culturale, la uniformità. E questo, la uniformità come regola di vita, non è cristiano. L'unità sì. Unità sì, uniformità no. A volte non si è rinunciato neppure alla violenza pur di far prevalere il proprio punto di vista. pensiamo alle guerre, no? In questo modo si è privata la Chiesa della ricchezza di tante espressioni locali che portano con sé la tradizione culturale di entere popolazioni. Ma questo è l'esatto contrario della libertà cristiana. Per esempio mi viene in mente quando sono fermati il modo di fare apostolato in Cina con il padre Ricci o nell'India con il padre di Nobili e no, questo non è cristiano. Sì, è cristiano nella cultura del popolo. Insomma, la visione della libertà propria di Paolo è tutta illuminata e fecondata dal mistero di Cristo. che nella sua incarnazione, ricorda il Vaticano II, si è unito in certo modo a ogni uomo. E questo vuol dire che non è uniforme, no? C'è la varietà, ma varietà unita. Da qui deriva il dovere di rispettare la provenienza culturale di ogni persona, inserendola in uno spazio di libertà che non si è ristretto da alcuna impossessione dettata da una sola cultura predominante. E questo è il senso di dirci cattolici, di parlare di Chiesa cattolica. Non è una denominazione sociologica per distinguerci da altri cristiani. No. Cattolico è un aggettivo. È un aggettivo che significa universale. La cattolicità, la universalità. Chiesa universale, cioè cattolica. Vuol dire che la Chiesa ha in sé, nella sua stessa natura, l'apertura a tutti i popoli e le culture di ogni tempo, perché Cristo è nato, morto e risorto per lui. La cultura, d'altronde, è per sua stessa natura in continua trasformazione. Si pensi a come siamo chiamati ad annunciare il Vangelo in questo momento storico di grande cambiamento culturale, dove una tecnologia sempre più avanzata sempre avere il predominio. Se dovessimo pretendere di parlare della fede come si faceva nei secoli passati, rischieremo di non essere più compressi dalle nuove generazioni. La libertà della fede cristiana non indica una visione statica della vita, una visione statica della cultura, ma una visione dinamica, una visione dinamica della tradizione pure. La tradizione che cresce, 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 ma sempre con la stessa natura. Non pretendiamo pertanto di avere il possesso della libertà, no. Abbiamo ricevuto un dono da custodire ed è piuttosto la libertà che chiede a ciascuno di essere in un costante cammino orientati verso la sua pienezza. È la condizione di pellegrini e lo stato di viandanti in continuo esso liberati dalla schiavitù per camminare verso la pienezza della libertà. E questo è il grande dono che ci ha dato Gesù Cristo, il Signore. Ci ha liberato della schiavitù gratuitamente e ci ha messo sulla strada per camminare nella piena libertà. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.